Eccoci qui come promesso, ben ritrovati amici e amici di Milanello come state, un saluto a tutti, vi ricordo di iscrivervi qui, mi raccomando attivate la campanella. Abbiamo superato gli 86.300, prossimo obiettivo gli 87.000, insomma ne manca ancora un po' però vediamo oggi chi si iscrive, commentate, lasciate un like e se vi va facciamoci anche gli auguri anche tra di voi, mi piacerebbe insomma che ci portiamo avanti. Buone feste, mi piace quando vi commentate a vicenda sempre che però con rispetto ai civiltà, anche se ogni tanto qualcuno sbaglia e in quel caso male, tirata d'orecchie. Allora, tante novità oggi, nel video precedente vi abbiamo parlato di alcune novità su Adli e sul futuro di Leao, vi rimando a quel video alla fine di questo se non l'avete ancora fatto, se non l'avete ancora visto. Prima di entrare nel vivo c'è una situazione molto seria, molto seria da approfondire e c'è anche una voce che può far piacere da un lato ma dall'altro può preoccupare, che dobbiamo analizzare insieme con molta attenzione. Vorrei subito, intanto, perché me ne avevo dimenticato prima, fare gli auguri a Chaka Traoré, che è il gioiellino, uno dei gioiellini della primavera prelevato dal Parma, aveva esordito in campionato in Serie A giovanissimo proprio contro il Milan, che oggi con Pigliani diventa 18enne, maggioreenne, può firmare appunto il contratto, giocatore che nella primavera quest'anno ha fatto 8 partite, 4 gole e 1 assist, può giocare a sinistra, ma anche a destra, un gol e 2 assist in 5 partite di Youth League, uno di quelli che tanti di voi mi proponete come possibile promozione nella prima squadra, anche io sinceramente mi chiedo che cosa stiamo aspettando, perché questo è forte, questo è forte, come dico sempre sui giovani bisogna seguire tutti gli step, aspettare, però altrove i 18 anni giocano, e secondo me lui è forte. Chaka Traoré oggi appunto 18enne, diamogli una penna e facciamo un bel contratto da professionista, ancora auguri a Chaka Traoré, chi non lo conoscesse può andare a guardarsi le skills su YouTube. Allora, era atteso il bollettino, qualcuno dice che è un bollettino insomma molto forte, però poi andiamo sugli sviluppi che devono far riflettere. Il bollettino intanto ci dice che Messias e Krunic hanno degli affaticamenti muscolari che verranno valutati dopo Natale, affaticamento muscolare non dovrebbe essere nulla di serio, segnalo che però Messias è fuori da quella gara, prima della gara con la Fiorentina, e non è mai rientrato in gruppo dopo quella gara. Era il 13 novembre, si fa male forse il 12, l'11, 12, siamo ormai a un mese e mezzo, vediamo adesso questo affaticamento come va avanti, fortunatamente abbiamo recuperato Sare Makers. Krunic è uno che serve, Krunic in quelle partite nel rush di campionato e Coppa Italia e poi Champions League, giocando ogni tre giorni servirà e farà le sue partite. Quindi speriamo anche lui che possa ritornare in tempi brevi. Su Orighi bisogna aspettare anche per lui, comunque ha riportato un problema di basso grado al bicipite femorale della gamba destra ed è previsto un controllo tra un'altra settimana. Non ci sarà sicuramente con la Salernità, non ci sarà con la Roma, ma diciamo che si proverà a recuperarlo per, dipende dalla settimana prossima, però ipotizzo magari per la Supercoppa, magari anche un po' più tardi. Poteva essere peggio, ecco, circolavano anche discrezioni decisamente peggiori su Divock Orighi. Mentre l'attesa, ovviamente su Menian, sapete magari in tanti, per chi non lo sapesse, Menian da quello che arriva dal Milan non ha completato il suo processo di guarigione, fin qui lo sapevamo, gli esiti dell'infortunio non sono ancora sufficientemente stabili. Tradotto quindi non si capisce ancora bene a che punto è, se è recuperato oppure no. Da permettere un'ulteriore progressione del lavoro, quindi da permettere di fare la fase finale di recupero. È un po' macchiavellico, non è un comunicato ufficiale, ma è qualcosa che esce ovviamente dal Milan. Un punto sulle sue condizioni verrà effettuato tra due settimane. Quindi, calendario alla mano, prima della gara con la Roma verrà effettuato un nuovo esame, però anche se va bene non rientra sicuramente in quelle partite. E credo che a quel punto, visto tutto quello che è successo, sia quasi impensabile che possa giocare al 18 in Supercoppa. Direi che quasi impensabile, quasi impossibile, perché si andrà comunque con estrema cautela. Direi che non ci sarà. E che potrebbe rivedersi a febbraio. Però è un punto di domanda, proprio perché il polpaccio dà problemi. Gestione forse non straordinaria. È un peccato perché lui è fuori da una vita. L'ultima partita la fa il 18 settembre. Pensate quanto tempo è passato. Eravamo con le mezze maniche, adesso siamo con la felpa, il piumino e il cappellino. È un gran peccato. E ora, però ci sono dei però. Il primo però è questo. Il Milan sta andando seriamente sul mercato per il portiere. Che cosa significa? Significa che evidentemente Mignan non rientrerà in tempi brevi. Ora, non voglio creare allarmismo. Però se il Milan prende un portiere, da un lato non si fida di Miranti e di Tatarusano. Ma l'anno scorso si era fidato di Miranti e di Tatarusano. E anche in estate. Anche se non prevedeva una situazione simile per Mignan. Dall'altro, significa che temi che Mignan possa avere delle conseguenze da questo infortunio. Che possa avere ripercussioni o ricadute anche più avanti. E quindi, non lasciando nulla il caso, ti vai a cautelare. Sapete che il Milan ha bloccato Sportiello per giugno. Ma non ancora ha firmato Sportiello. Sta provando ad anticipare questa operazione con l'Atalanta. Che al momento, però, sembra piuttosto ferma sulle sue posizioni. Nelle ultime ore, nelle ultimissime ore, spunta a grande, grandissima sorpresa, un nome molto importante. Di quello che per quanto mi riguarda è il miglior portiere italiano. Lo dico sinceramente. C'è Cuglielmo Vicario. Vicario ha 26 anni, è alto nel 94, gioca nell'Empoli. Per rendimento, da un paio di stagioni, il miglior portiere italiano. Secondo me, superiore anche per rendimento Donnarumma. E questo però mi fa pensare. Mi fa pensare perché la voce Vicario è vera, è concreta. Però Vicario, capite che è un portiere che può ambire a fare il titolare in una grande squadra. Per questo dico, o è una voce che viene fatta circolare per mettere pressione all'Atalanta, perché se Milan prende Vicario, lo prende per farlo giocare subito senza Vignan. O questa è una voce messa in giro ad arte per mettere pressione a riso, perché trovi il modo di ottenere il trasferimento a gennaio di Vignan. Perché se Milan prende Vicario, in estate non arriva a sportiello. Oppure il problema di Vignan è talmente serio che rischia di vedere un po' il suo futuro con un po' più di preoccupazione. Ad esempio, Chiellini ogni 2x3 li tornava al problema col Paccio, lo stesso Peruzzi. Vicario che costa una quindicina di milioni di euro. Se tu lo prendi, se tu lo prendi significa che sei molto preoccupato su Vignan. Evidentemente. Dico una cosa perché lo sto leggendo nei commenti. Non scrivetemi. Era meglio Donna Roma. Basta, cediamo Vignan. Non se ne può più. Per me Vignan è il miglior portiere in Italia. Vicario viene dopo. È un portiere che in questo momento vive un momento difficile, ma che va aspettato. Io non vedo l'ora di rivederlo in campo, sinceramente. So che quel momento è ancora lontano, ma non vedo l'ora. Non lo metto in discussione anche se in due anni è già saltato più di 20 partite. E arriverà a 30-35, boh 40. Questo lo scopriremo strada facendo. Non lo sa nemmeno il Milan, non lo sa nemmeno lui. Se però si va su Vicario, io da un lato sarei contento perché avremo un dodicesimo pazzesco. Però lui non è un dodicesimo, un numero uno. Se prendi Vicario è perché hai paura sul futuro di Vignan. Questo ve lo dico con estrema sincerità. Dopodiché in questo momento una voce verificata. Quindi questi elementi possiamo analizzare insieme. Io dico tutto nel bene e nel male. Con estrema sincerità e trasparenza. Non voglio indorare la pillola a nessuno. Non voglio presentare una realtà più bella di quella che è. Però questo è un nome che è fortissimo, mi piacerebbe. Dall'altro mi verrebbe da dire che se prendiamo Vicario, Vignan. Vignan allora è serio. Purtroppo se adesso siamo molto sinceri e calmi e ragioniamo, il problema oggi è serio. Perché lui è fuori dal 18 settembre, ottobre, novembre, dicembre, siamo a tre mesi. Poi sicuramente fa quattro mesi. Quattro mesi per il polpaccio significa che il problema è serio. Quindi il problema sicuramente è serio. Ma quanto, così tanto per prendere un portiere poi così forte, nelle prossime ore capiremo insieme. Per me Vicario è fortissimo. Ha 26 anni, tra l'altro è assistito da Giuffrida, che è lo stesso agente di Pioli, con cui il Milan ha splendidi di rapporti. Ecco, è forse la gente più vicino a casa Milan, corriso stesso. Quindi vediamo che cosa succede. Portiere, che è entrato anche nel giro nazionale. Giuro che non lo dico perché Donnarumma se n'è andato in quel modo, ma secondo me, per meritocrazia, oggi i guantoni naturali e nazionali dovrebbero andare lui. Davvero forte, forte, forte. Poi è vero, nazionale, step più alto, devi fare esperienza, i guantoni pesano di più. Però per me Vicario, chi lo prende fa un affare. Poi, insomma, altre squadre hanno un primo, un dodicesimo di questa differenza. Chesni Perin, non c'è tutto questo dislivello, ad esempio. Potrei citare anche altri esempi. Nel Monza addirittura il dodicesimo è Cragno. Nella Fiorentina a Ternaziano Gollini. Da noi obiettivamente il dislivello è netto. Avere l'anno prossimo Megnano e Vicario, ditemi dove devo firmare. Però a me sembra sinceramente troppo. Credo che abbiamo altre priorità. Però il portiere sarà italiano anche per questioni liste. Io rimango sempre dell'idea che Sportiello, provare ad anticipare Sportiello è la cosa più logica. Se si prende Vicario, si fa una scelta del genere, per ottimi rapporti con l'Empoli, significa che Megnano ti preoccupa anche per il futuro. Lo dico con estrema sincerità. È una riflessione, appunto. Dettevi che cosa ne pensate. Vi invito a commentare numerosi qui sotto. A iscrivervi in questa zona. Se non lo avete ancora fatto, lasciate un bel like. E che dire, buone feste. Vi rimando a video precedente. Ci vediamo ancora qui su Milanello anche nei prossimi giorni. Situazione un po' strana. Anche perché il non comunicato del Milan, ma quello che arriva dal Milan, è un po' strano. Rileggendolo, non ha completato il percorso. Situazione incerta. Ne parliamo tra due settimane. Ditemi che cosa ne pensate, ragazzi. Dai, un abbraccio a tutti. Forza mi analogi più che mai, domani ancora di più. E speriamo bene. Facciarci la testa non serve a nulla. È chiaro che quella è la situazione, quel bollettino. Ciao ragazzi. Vi rimando al video precedente. Se vi va, iscrivetevi al mio secondo canale. Questo è un canale personale. Ieri abbiamo superato i 10.000 iscritti. Qui sotto c'è il link. Ciao a tutti e buone feste.